questo è caverna di platone questo è si è lui questo è caverna rewind come sempre è successo io non ci posso credere non ci volevo credere ma è successo profilo di victor laszlo eccoci qua buongiorno a tutti e cominciamo già con buongiorno a tutti volevo informarvi che come ho già scritto in alcuni commenti di risposta due giorni fa sotto l'ultimo video del signore degli anelli gli anelli del potere è già sbagliato perché si chiama solo rings of power non si può chiamare il signore degli anelli perché se non li arrestano ho preso la decisione di smettere di parlare della serie l'elevato numero di commenti negativi alcuni pacati ma molti di insulti o di accuse varie mi hanno fatto capire che non ci sono più i presupposti per me per continuare la serie di video a riguardo continuerò a ripetere anche perché per legge le sponsorizzazioni vanno segnalate e io l'ho sempre fatto o le persone che in massa si dicono deluse perché a me piace una serie che non piace a loro mi hanno portato a capire che non ho sinceramente più voglia di continuare in questo modo al punto che ho sinceramente l'ansia ogni volta che devo registrare quei contenuti affermazioni che sinceramente trovo quanto meno esagerata perdere stima in una persona perché gli piace una serie mi sembra assurdo anche perché in tanti mi avete detto che ho parlato peggio di serie migliori ma finora non mi è mai stato riportato alcun esempio pratico ma come giusto che sia accetto l'opinione anche se non concordo e si va avanti con tutti gli altri video come sempre non intendo creare nessun tipo di polemica al riguardo beh però la crea se fa il post inevitabile la crea per forza le accuse di essere pagato cosa non vera continuerò a ripetere perché la legge sulle sponsorizzazioni vanno segnalate io ho sempre rilevato i difetti della serie non li ho mai negati questa è tutta colpa di calello e questa è tutta colpa di calello ma come giusto che sia accetto l'opinione non intendo creare nessun tipo di polemica aggiungo che io personalmente non ho nessun conflitto di interessi come tanti utenti e ripeto utenti non creator mi accusano più volte ho partecipato ad anteprime di film o serie che ho demolito come madame web morbius o venom aggiungo che after è uno dei brand originali di punta di prime video e non ho sempre parlato male giusto per chiarire mi dispiace per quelli che aspettavano le recensioni settimanali e che magari non sono soliti commentare ma devo divertirmi soprattutto io e al momento di questi video e al momento questi video mi portano più problemi che altro anche a livello psicosomatico quindi chiedo scusa ma per la prima volta in 15 anni mi sento di evitare di proseguire con una rubrica la mia salute psicofisica è più importante e credo che lo sia in generale quella di chiunque soprattutto se si parla di motivazioni tanto futili questa decisione è stata presa solo ed esclusivamente in relazione alla reazione dell'utenza verso cui non nutro alcun astio voglio essere chiaro né la mia intenzione è quella di fare vittimismo ho anche registrato un video a riguardo ma ero in dubbio se caricarlo o meno per evitare ulteriori problemi ma se ritenete sia necessario ditemelo nei commenti e valuterò l'idea di pubblicarlo ps siccome so come ragionano certi utenti sul web e no non c'entra nulla la recente uscita del video di un altro creator che onestamente non ho guardato ma non c'entra nulla quello che dice lui certo ma c'entra per il pubblico sulla questione del conflitto di interessi avevo preso questa decisione già giorni fa ben prima che uscisse e non ho nessuna intenzione di contestare i video di altri colleghi ognuno è libero di avere la propria opinione allora ragazzi io ho pure commentato victor ho scritto qua da qualche parte ho lasciato un commento veramente assurdo il comportamento di sta gente chiamiamo lo elimino proprio no 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 per me veramente senza senso tutto questo cioè siamo arrivati al punto che non lo so non si può più dire niente lo so ragazzi lo so lo so ma che cazzo dice una frase da vecchi di merda è una frase è una frase di merda lo so lo so ragazzi lo so lo so ma è vero ragazzi piccolo aggiornamento brevissimo l'aggiornamento positivo ci siamo sentiti privatamente il victor e per la prima volta fra l'altro è stato un piacere perché finalmente abbiamo avuto un confronto anche se rapido per stato un confronto pacifico e costruttivo in cui lui mi ha spiegato che il suo post non era ovviamente non aveva lo scopo di scatenare quello che è successo nei miei confronti ovviamente in giro sappiamo ci sono tanti idioti su cui nemmeno lui ha controllo e nemmeno io quindi quello che è successo a lui ovviamente non è mia responsabilità e quello che è successo a me non è ovviamente la sua non è sua responsabilità ma la responsabilità sappiamo di chi è di tante persone che ci sono in giro e che non hanno nulla da fare quindi io comunque lo ringrazio per la disponibilità e per essere stato comunque sincero con il sottoscritto e nulla quindi vi prego ovviamente di sostenere questa pace che è stata trovata va bene grazie allora ragazzi io mi sono appena chiarito in privato con frank di valinor perché ha ricevuto una shitstorm pesante dopo il mio post sul fatto che non continuerò a parlare degli anni del potere sul canale avevo chiesto per cortesia di non insultare l'utenza che ha lasciato quei commenti che mi hanno spinto a prendere questa decisione e avevo ribadito che non c'entrava nessun collega tanto meno frank di valinor lui non c'entra niente con questa mia decisione è una cosa che ho voluto fare io ho esercitato la la mia totale libertà e ho scelto di smettere di parlare della serie per preservare la mia salute psicofisica l'ho già spiegato quindi per favore se siete andati a insultare frank rimuovete quei commenti per cortesia perché è una cosa brutta ne abbiamo parlato è tutto a posto siamo pacifici entrambi basta farsi la guerra per queste strozzate perché solo una serie non è vero che solo una serie perché se fosse così la gente non si incazzerebbe così tanto è una fottuta religione così come i fumetti così come altri film valinor si trova vicino caserta dalle parti di come si chiama quel comunque come si chiama san nicola la strada san nicola la strada valinor caserta praticamente così è vicino vicino regale 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 sta vicino caserta il bello è che anche tu sei stato attaccato altre volte perché magari ti piaceva un prodotto non ti piaceva così tanto e la gente è cominciata a inviare non capendo che questi sono gusti personali cioè non è che bisogna per forza essere d'accordo al 100% con uno youtube un content creator un influencer qualche dir si voglia cioè questa cosa è un estremismo che a me non piace però io non mi sono trovata d'accordo con opinioni di altri youtuber stimati ma non per questo è un motivo per attaccarli per inveire contro di loro cioè ci sta avere una tantum più di una tantum perché devi per forza essere sempre in accordo con le persone questa è una cosa malsana da pensare allora io mi rendo conto che veramente molto molto difficile riuscire a mettere tutti quanti d'accordo e a volte non è nemmeno necessario farlo sinceramente ci sono delle cose per le quali non è che tutti quanti tutti gli uomini del mondo devono essere d'accordo si può essere in disaccordo su una cosa però secondo me possiamo essere tutti quanti d'accordo odiamo gli altri esseri umani mamma mia non ce la facciamo proprio non li sopportiamo mamma mia quelli che più ci somigliano ci fa molto piacere averli vicino gli altri porca troia la pensi diversamente da me devi esplodere devi proprio scoppiare devi morire a me tante volte sono arrivate minacce ti taglio le dita ti sparo ti ammazzo hai parlato male di naruto ti taglio le dita c'è letteralmente queste sono state forse quello sei tu sicuramente ma io pure odio io solo che non lo nascondo però odio odi in quei cinque minuti ti passa inutile secondo me andare lì a scrivere incazzarsi riempirli di merda andare ad offendere il creator perché pensa delle cose diverse da me non cambierà niente cioè nel caso di victor purtroppo è cambiato cioè nel senso nel caso di kalel e valinor non ha fatto altro che aumentare la faida tra loro due e far e farli gasare kaler è arrivato al punto più basso della sua carriera su youtube arrivando addirittura a fare un video con gli attori di anelli del potere che salutano frank di valinor cioè siamo arrivati a questo livello di bassezza intellettuale di stupidità proprio bambinesca valinor altrettanto perché comunque picchia picchia rompe il cazzo a kalel quindi inevitabilmente tutte e due hanno creato un un putiferio cioè hanno creato un ottimo terreno non per creare per fare un ponte tra le persone che parlano di cose che gli piacciono ma di creare due fronti ok cioè hanno creato due fronti da cui i loro gruppi si menano sostanzialmente e in mezzo ci ha finito victor assurdo assurdo sto fatto che non c'entrava niente perché alla fine sono loro che hanno fatto partire tutto sto bordello e sicuramente signore degli anelli diciamo fa proselitismo va bene signore degli anelli ne parli male sei finito non a caso ragazzi quelli che oggi si chiamano a treiu una volta si chiamavano i campi hobbit o mi sbaglio eh le feste della destra italiana o mi sbaglio eh ma qua l'italiano facile che dimentica le cose scomode eh quindi ragazzi il fatto è grave il fatto è troppo grave qua è una cosa che a me dispiace ma dispiace prima di tutto vedere che loro due litigano e in mezzo ci finisce un altro chiaramente ma soprattutto mi dispiace che non si crea un una roba costruttiva e mi dispiace ancora di più che non ci sia un una riflessione da parte del pubblico ecco secondo me il problema più grande sicuramente alla base è quello del pubblico nel senso che c'è un fandom acritico che non riesce a interrogarsi sulle mancanze della serie sulle difficoltà oppure si interroga fin troppo sulle difficoltà della serie e invece di dire è una serie merda mi piace è una serie che mi piace è un po' una merda no non riescono a fare questo discorso si menano si menano cioè stiamo parlando di victor che strepita gli astemma si incazza spacca tutto io gli do tutto il mio sostegno e è arrivato al punto che ha detto io mi fermo cioè capito stiamo parlando di victor laslo che la sua recensione un vaffanculo e un chita è morto e ha detto basta ha detto ragazzi non ce la faccio più cioè vuol dire che il fatto è grave cioè vuol dire che non ci siamo che non si può fare così ora poi commento commento mio su victor ci sono strumenti di youtube ci sono strumenti si può moderare si deve moderare 100 commenti negativi 100 bannati frega niente 100 utenti persi via ciao alla prossima alla prossima che sarà in un gruppo telegram dove tutti e 100 si scrivono e dicono mi ha bannato quel bastardo adesso gliela facciamo piangere mi crea un altro account adesso vado da lui a piangere è arrivato al punto tale che quando vedo che una discussione porta a una diventa sterile perché l'interlocutore incomincia a parlare di altre cose io blocco direttamente comincia a offendere ovviamente io blocco direttamente me ne fotte più se posso segnalo che il 90 per cento le mie segnalazioni vanno a vuoto però qualcuno lo becco sempre ah certo bisogna bisogna segnalare ma giustamente mena mi ricorda la massima del mio scrittore preferito mark twain non discutere mai con un idiota ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza io quando mi arrivano i commenti negativi sotto un video blocco pan a me non me ne frega un cazzo non voglio commenti negativi io li rifiuto i commenti negativi giusti o sbagliati non mi interessa li mando a fare in culo non ce li voglio non che voglio soltanto i commenti positivi di piageria va bene pure nessun commento easy nessun commento non mi devi roppere il cazzo se ho detto una stronzata farò un video dove dico ho detto una stronzata ma se mi viene a correggere sotto al video mi urti e io ti banno non mi devi correggere a me mi urti e io ti banno easy risolto ogni problema fuori dai coglioni per il caso di victor a sé più grave ripeto ci sono gli strumenti andavano bannati andavano moderati poi se lui stava proprio male ragazzi se uno non ha più piacere a fare una cosa io sono di un'idea qua ci stiamo perché ci dobbiamo divertire se non ci divertiamo non ne vale più la pena perciò se lui stava male bene ha fatto a smettere fatto assolutamente bene ripeto appoggio lui sempre appoggio questa decisione assolutamente anche perché questi non si meritano un cazzo ma è inutile lui stava regalando perché poi i video sono gratis anche se ne guadagniamo tramite le pubblicità certamente ma il video è gratis e tu non paghi per accedere lui stava regalando delle cose al pubblico che non sa apprezzare io infatti posso dire una cosa molti dicono è su internet stai su internet e accetta anche le critiche no a parte che le posso sempre denunciare uno dipende dal tipo di critica ma perché devo accettare per forza se tu stai a casa mia ho tutta la libertà casa mia può essere il mio canale o il mio profilo io ho tutta la libertà di bannarti e bloccare il tuo pensiero d'altre parti fai quello che cazzo vuoi io nel mio profilo decido io cosa fare ma certo ma io non vedo perché devo lasciare che la gente si sfoghi o mi dica delle cose negative sotto un video ma dove sta scritto io vi invito sempre a segnalare i commenti pesanti che leggete su internet perché è un ambiente che fa schifo è diventato internet col peggiorare degli anni perché non è peggiorato con gli anni volevo dire perché non c'è un controllo non c'è un'amministrazione un fattore terzo che in qualche modo moderi i toni su internet e questo ambiente tossico va eliminato io se posso anche se il 90% delle mie segnalazioni guarda caso poi spesso i social fanno a cazzi loro dicono chi segnalare chi no se potete segnalate in massa soprattutto se sono commenti offensivi pericolosi eccetera perché questo ambiente va tutelato noi dobbiamo autoregolamentarci visto che non c'è un'istituzione che controlla un patentino per stare su internet allora gli utenti di internet devono autoregolamentarsi se vedete delle merde in giro sui social a seconda della vostra etica naturalmente si spera che non sia troppo personale ma più generica possibile per abbracciare i valori di tutti anche se so che è difficile ma d'altronde le rivoluzioni non si fanno senza ammazzare qualcuno bisogna buttarli giù qualcuno va buttato giù come lo vedi uno come me che guarda la serie e segue tutti e tre sono ipocrita non insulto nessuno né minaccio ma mi diverte vedere le recensioni di tutti sulla serie ma figurati ma ma è giusto così è giusto che è bello pure vedere i pareri degli altri il divertimento sta proprio qua secondo me nel cioè se ti piace vivere la critica il divertimento sta nel fatto che tu ti metti qua e te li guardi tutti quanti e vedi ognuno di loro che cosa dice e magari anche nella non lo so nella diciamo superficialità di qualcuno ecco quando tratta questi argomenti può uscire un parere illuminante oppure puoi imparare di più o puoi divertirti e basta certo Gigi Kamer ha detto io su Dragon Ball non so quanti dei pensanti offensivi ho segnalato dopo la pandemia è andato tutto a quel paese boh ragazzi non lo so il fandom può essere un problema può essere probabilmente post pandemia non lo so sicuramente c'è stato un imbastardimento sai si diceva dopo la pandemia torneremo ad abbracciarci non è vero non è vero ma già prima non ci si voleva abbracciare cioè secondo me la pandemia è stato un acceleratore sociale cioè non è che la pandemia ha fatto diventare cattive le persone no semplicemente ha fatto capire che alcune persone potevano essere cattive e non sarebbe accaduto niente cosa che lo vediamo giorno dopo giorno vedremo che succederà a questa società qualcosa cambierà sicuramente sto cercando di tirare fuori dalla memoria qualcosa di positivo una discussione positiva avuta su internet non ce l'ho mai avuta probabilmente c'è una discussione positiva quasi social è molto difficile da avere soprattutto per un personaggio come me molto divisivo e a volte io parlo per statement perché sono un opinion leader io non devo discutere con gli altri quindi per me è complicato mettermi a a chiacchierare cercare di smentire idee io non ho questo tempo da perdere sinceramente per me è tempo perso veramente cioè proprio per questo dicevo a victor per me lui stava regalando delle informazioni alla gente che non le ha sapute apprezzare questo è noi tutti i giorni regaliamo qualcosa a voi è inutile pure se vi abbonate non cambia un cazzo ma io sono abbonato io pretendo ma cosa pretendi ma vai a fare in culo vattene via ma cosa vuoi perché sei abbonato pretendi cosa pretendi hai capito che qua se ti vuoi fare un qualsiasi corso devi spendere dai 500 ai 5000 euro ma stai scherzando ma adesso per 5 euro al mese un pacchetto di sigarette vuoi rompere pure il cazzo e vuoi pure pretendere stai zitto ascolta se non ti sta bene togli l'abbonamento e valla a dare a qualcun altro ma che minchia vuoi cioè non c'è veramente tempo da perdere secondo me è inutile stare qua a fare demagogia su tutto questo pigliamoci un caffè pigliamoci un caffè si risolve sempre 53 per 5 sono 265 ridammeli mi dispiace chiedi il rimborso a e di rimborso a twitch no 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 no